La miniserie ha fatto il pieno di ascolti. La prima puntata ha registrato il 22,25% di share. La seconda ha avuto un ascolto record e il 29,5% di share. La biondina, che ad amici otto arrivò quarta da ballerina, ha deciso di virare sulla recitazione. Scelta azzeccata. Presenza scenica e talento l'hanno fatta crescere. Ha mostro i primi passi sul set con la fiction e...